Un saluto da Dottor Palmas. Oggi sono qua per parlarti di una straordinaria offerta estiva dedicata a te e ai tuoi figli. Se infatti hai figli che hanno sempre desiderato un sorriso perfetto, allineato, quindi denti dritti e li hanno storti, questa è l'offerta giusta estiva per te. Sto parlando degli allineatori trasparenti, quel dispositivo rimovibile che ci permette di mettere i denti dritti a posto con delle semplici mascherine in 6-8 mesi. Con questi allineatori trasparenti di Secret Aligner questo sogno tuo di tuo figlio può diventare realtà. Questi allineatori sono praticamente invisibili, comodi da indossare, sono efficaci e questi sono i dettagli della nostra offerta. L'allineamento per denti storti, caso complesso, a 2.997 euro anziché 3.597 oppure l'allineamento semplice 1.997 euro. Ovviamente è compresa la visita, l'igiene professionale e questa è un'offerta valida ovviamente per chi accetta il piano di cura con pagamento entro il 31 agosto. Quindi un'estate dedicata all'allineamento dei propri denti. Ma qual è il vantaggio degli allineamenti fatti con queste mascherine trasparenti rispetto agli apparecchi coi ferretti, classici brackets? La durata del trattamento è inferiore, parliamo di un trattamento che va dai 6 agli 8 mesi circa, contro almeno un anno e mezzo dei brackets. Vengono utilizzati 22 ore al giorno contro le 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei brackets. Queste sono mascherine invece quando si vuole possono essere rimosse, ok? Supponiamo che c'è un evento, una festa, un matrimonio, questi possono essere rimossi. L'importante è che poi si recuperi il tempo che non si è utilizzato l'allineatore nei giorni successivi. Ti ricordo che c'è la visita gratuita del valore di 99 euro compresa, quindi noi faremo la visita come prima cosa per valutare il caso, ci sarà l'igiene e dopodiché andremo a pianificare quello che è il piano di cura. Una volta che avrete visualizzato sullo smartphone come possono essere raddrizzati i denti, andremo a quel punto a produrre gli allineatori a consegnarli di modo che si possa iniziare col trattamento. Ti ricordo che questa è un'opportunità unica per migliorare il sorriso tuo o di tuo figlio, garantendo una maggiore fiducia in se stessi, una migliore salute orale. Quindi non lasciarti sfuggire a questa offerta, registrati su questa pagina, fai clic su questo bottone e a questo punto andrai a completare il formulario con i tuoi dati. Ti richiameremo a questo punto per andare a programmare la visita a Bergamo. Parliamo adesso di Secret Aligner, la Larissa, parleremo di questi. Chi li conosce questi? Avete mai visti in giro gli allineatori, qualcuno, per raddrizzare i denti? I giovani in genere li conoscono, perché compare loro su TikTok e Instagram. Però invece quelli un po' più adulti non gli compaiono questi, ma gli compare Dottor Palmas. I giovani qua non mi conoscevano, ma conoscono gli allineatori. Ok, servono a raddrizzare i denti con delle mascherine di plastica praticamente. Mi prontano? Con le freccette puoi andare avanti oppure va bene? Buongiorno, io sono... Larissa, scusa, non ti ho introdotto. Ho detto da dove viene, ma non cosa fa. Lei lavora al piano sotto mio, ok, però lavoriamo con il computer a distanza. Ha raddrizzato praticamente quasi tutti i denti dei nostri pazienti che dovevano essere raddrizzati. Noi siamo sempre che mi manda così, così, cambia questo, modifica questo, sposta questo dentino, ruotalo così, di 0,5 gradi a destra, a sinistra. Poi quello che risulta, e ce lo fa vedere lei, dei denti un po' più dritti. Iniziamo un po' con una piccola storia. Ho finito l'università in Romania. Questi allineatori trasparenti sono praticamente i pezzettini di plastica che, come con la magia, adrezzano i denti. Questa è una parte della storia perché... Parliamo di impronte e poi trasferimento su plastiche termoplastiche delle forme delle impronte. Quindi facciamo come se fossero un guanto ai denti che sono rimasti in bocca. Esatto. Facciamo un guanto di plastica che si inserisce sui denti. La differenza principale tra gli aligners e i brackets, le stelline, i ferretti, come li chiamate in Italia? Come volete. L'apparecchio. Non si vede, no? È che gli aligners spingono i denti, invece i brackets lo tirano. Lo tira. Sono molto comodi, lo potrete togliere per mangiare, per lavare, per qualsiasi cosa. Se bevi il caffè? Lo puoi togliere. Se dai un bacio? Non devi. Non devi, non si sente in realtà. Non si sente. No, no, ne freghi molti, te l'assicuro. Se fumi? Non fumare. Non fumare. Meglio non fumare. Almeno togli il fumi e lo rimetti la maschera. Esatto. Se hai un matrimonio, un evento, lo puoi tenere. Non si vede tanto. Sì, non si vede tanto. Se lo levi però devi recuperare quei giorni che non hai usato l'apparecchietto, questo allineatore. Voi avete figli? Sulla mano chi ha figli? Chi ha figli coi denti storti? Chi è stato mai fatto un preventivo per raddrizzare i denti ai figli? Chissà quanto costa raddrizzare i denti mediamente? 5.000 euro in Italia. Io non lo so, in Italia, all'estero lo so. 5.000 5.000 più o meno. Questi apparecchietti vanno dai 1.700 ai 3.600. Apriamo in Svizzera. Ok. Subito. Lugano, Pozzurigo, Ginevra, meglio. Prendiamo la macchina. Lugano. Ok, 10.000 franchi, ammazza, tanto. Il buono di questi denti qual è? Che rispetto ai brackets, ve lo dico io perché lei non fa i brackets, che i brackets metti degli elastici, delle molle che servono a fare delle forze sui denti. Eh. Ma quando raddrizzi i denti non sai mai quando finisci, quando il figlio o il nipote finisce. Tre anni, già dopo un anno e mezzo è troppo. Se hai tre anni è perché l'ortodonzista sta andando a spanne, a occhio. Boh, com'è così? No, l'ho raddrizzato troppo, porta indietro. No, ora non entra lì. 15.000 euro. Stai sul libro paga per anni. Con gli aligner sai quando inizi? Esatto. Sai quando inizi e sai quando finisci perché praticamente il nostro soft ti dà tutto il movimento dei denti. Perché quando andate al dottore, all'ortodontista, lui ti dice dopo un anno o due, vediamo. Non sa quale sarà il risultato finale. Esatto. Qual lo vedete già come saranno i denti alla fine. e il computer calcola un film dall'inizio alla fine, denti storti, denti dritti, come una pellicola di un film. È fatta di tanti fotogrammi che se mandi veloce si crea movimento. Per questo movimento genera un fotogramma di due settimane. Ogni due settimane stampiamo dei denti in plastica sui quali si crea questo guanto. Togli da lì e lo metti in bocca al paziente. Dopo due settimane cosa fa ogni due settimane il paziente? cambia la liners. Mette quello nuovo, successivo. Questo è un metodo rivoluzionario di raddrizzare i denti, comodo, invisibile, senza pianti anche dal lato economico perché sai esattamente quando finisci. In genere l'ortodonzia era così, almeno in Sardegna. Tu dove ti diceva due, tre anni, tre anni, quattro anni, qua non funziona, dobbiamo aumentare un anno. Però ti dava un fisso da pagare ogni mese. Che sono 100 euro, 250 euro, 200 euro. Quindi ogni mese in più sono 200 euro in più. Limare tre denti. Non posta più un costo finale fisso, finito, perché non hai idea di quante settimane ci vorranno. Esatto. I nostri aligner sono prodotti nel laboratorio che si trovano in Romania e anche in Moldova. Ok. Noi abbiamo gli allineatori, li spediamo in tutta Europa. Ci abbiamo pazienti, glieli spediamo a Parigi. Gli allineatori si raddrizzano i denti da sole. Chiaramente poi vengono a fare il controllo. Una scansione e vediamo se è tutto ok. A Bergamo, per esempio. Prendi Parigi-Bergamo, vieni in mattina, torni in sera. Quando trovi i voli a 20-30 euro, vieni per fare una scansione e noi sappiamo se quei denti si stanno raddrizzando. Questo è il nostro software che utilizziamo per allineatori. Abbiamo le scansioni, i tac, le foto, tutte queste cose che a noi importano per vedere e capire esattamente con cosa lavoriamo. Il primo passo è controllare le scansioni e mettiamo le linee importanti perché c'è la linea mediana, dove sono gli occhi, i canini, tutte queste. Voi immaginate, viene scansionata la bocca del paziente con una telecamera. Dopodiché lei manualmente inizia a dividere, a dire al computer dove finisce il dente e dove inizia la gengiva. A quel punto il computer gli permette di muovere i denti dove vuole. Ti dà anche degli avvisi. Occhio che è troppo, occhio che è troppo poco, guarda che qua tocca prima. Ti guida anche. Invece prima l'ortogonzista non aveva questo... faceva tutto a mano, più o meno a occhio. Doveva essere molto bravo per raddrizzare i denti velocemente perché significa che ogni mossa che faceva la palla andava in bucca. Ma se non sei bravissimo c'è il rischio che... è come fare... se io gioco a golf non farò mai bucca. Dovete venire il giorno dopo sul campo a chiedermi hai fatto bucca? Invece uno bravo, un Tiger Wood, due colpi, fa bucca. Il computer ti aiuta in questo. Questi sono gli attachment. Sembrano come i brackets perché sono pezzettini di composito che si... Attacchiamo sui denti delle cose per muoverli meglio. Ok. Appiccichiamo sui denti dei pezzettini di otturazione bianca così la mascherina riesce ad aggrappare il dente meglio e a muoverlo. E questi ci aiutano a fare... Sì. Ti aiuteranno perché tu quando indossi la liner, lui ce l'ha già la forma finale e quindi con questo pezzettino di composito ti aiuteranno a tirare praticamente il dente. Lo spinge o lo gira, lo ruota, lo tira in basso... E' un appiglio. Sì. E' un appiglio quando serve. Ogni tipo di attachment è fatto per un tipo di movimento. Un movimento. Invece questa è una parte troppo importante. Si chiama il PR o lo stripping o... Praticamente il dottore fa il taglio tra i denti per creare lo spazio. Parliamo di 0,1-0,2 mm. Si lima pochissimo. Un pelo, un capello, un po' di più di un capello. 0,2 mm. Ok. Un quinto di millimetro limiamo. Una striscetta si passa. Una piccola striscia di plastica che ha una polverina un po' abrasiva. Ma passandola su dieci denti ok? Ottieni due millimetri in dieci denti. Quindi sommando poco ma su tanti denti, però quei due millimetri che ti liberano spazio per raddrizzare, farci stare tutto. In genere quando è che i denti sono storti? Quando la mandibola è più piccola e i denti sono di taglia large. Tenete conto che noi abbiamo tre taglie, anche quattro o sei, di denti e di ossa. C'è chi è taglia small, mia madre, io sono un taglia small, piccoletta, un metro e cinquanta, mandibole piccole. Un altro un metro e tante è un XL, un large. Se tu hai però un'ossatura small e metti dei denti large, quelli saranno storti. Non c'è spazio. Non puoi allargare le ossa e a quel punto limare tra i denti. Questo l'IPR si fa quando manca spazio, quando c'è questo problema. Invece qui c'è la parte del laboratorio dove stampiamo i modelli. In modelli viene la plastica trasparente termopolimerizzabile e lo tagliamo e lo prepariamo per mettere in bocca. Quindi il paziente riceve quelli, quelli a destra. Ogni mascherina è un fotogramma che sposta di un quarto di millimetro i denti, ma messi 20 quarti di millimetri i denti si muovono. È come un film, una pellicola di un film fatta di tanti fotogrammi. Il vantaggio qual è di questa roba qua? Che sai quando inizi sai quando finisci. Vedi i denti dritti prima di raddrizzarli. Sai già come finiranno. Il vantaggio qual è? Che io posso muovere i denti, sposto i pilastri, li addrizzo, perché so che lì dopo devo costruire un balcone, devo mettere capsule, faccette, devo modificare l'occlusione e la postura della bocca del paziente. Allora in quel caso mi serve già sapere dove devo muovere i denti col computer. Un applauso alla Risa.